buongiorno a tutti e bentrovati allora io mi sono fermato finalmente perché ho percorso questa questa strada non so quante centinaia di volte allora da quella parte vengo da alessandria c'è oviglio qui ad arrivare ad alessandria direzione asti e in fondo c'è una piccola rotatoria vedete lì a sinistra c'è un piccolo parcheggio dove ci sono quei camion subito dopo circa 50 metri della rotatoria c'è un dal dal parcheggio scusate c'è una piccola rotatoria se si va a destra si va verso belveglio o monte grosso d'asta invece a sinistra verso cortiglione incisa scapaccino ne abbiamo già parlato tantissimo di incisa scapaccino andate a guardarvi video sono molto interessanti fino a nizza monferrato quindi qui siamo nella stigiano terra a stigiano ok alessandria e da quella parte allora io mi sono fermato perché ho visto questa questo masso questa scultura in molto particolare a colpo d'occhio che cosa vi sembra guardate un po no la parte destra questa parte qui quindi potrebbe essere un collo quindi mancherebbe magari la testa questa qui il dorso la parte posteriore con questi spuntoni che ci ricorderebbero qualche cosa allora io mi sono fermato e ho visto questo cartello questo video è molto interessante indirizzato ai bambini perché si potrebbero divertire perché una cosa divertente allora eccolo qua storia del dinosauro questo è una forma di dinosauro andiamo a capire perché dinosauro guardiano della cava andiamo a leggere questa parte qui tutto inizio nel 2003 quando l'anas decide la realizzazione dell'autostrada a sticuneo all'epoca il comune di cortiglione quello che dicevo io salendo sulla sinistra un chilometro da qui circa forse due diede la concessione per per l'estrazione della sabbia necessaria alla costruzione dell'autostrada ed autorizzò l'apertura di una cava con l'obbligo di modificare la viabilità della strada provinciale sp3 quelle che mi indicavo io alle mie spalle isola redabue sia per eliminare pericoloso incrocio con la provinciale sp27 annone nizza causa di numerosi incidenti stradali mediante la realizzazione di una rotonda che per eliminare le pericolose curve ad esse che fiancavano il torrente tiglione mediante lo spostamento e la modifica del tracciato stradale premesso che venne aperta la cava e si iniziò la estesa opera di scavo sbancamento premesso questo venne aperta la cava vabbè a lavori già avanzati vennero la luce numerosi agglomerati calcarei pietrosi con varie forme dimensioni di cui una imponente circa 5 per 3 5 per 2 metri che ricordava le fattezze di un dinosaurio che questo qui che abbiamo visto prima adesso lo vediamo meglio perché ci sono alcuni particolari da far vedere molto 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 interessanti e quasi molti di voi forse non ci crederanno ma è vero fate le ricerche ne parleremo più avanti di che cosa adesso andremo a vedere allora il sindaco decise di fare spostare le norme pietre in uno spazio decente la strada dove si trova tuttora in modo che fosse visibile a tutti la rimozione dell'imponente masso peso stimato di 20 tonnellate richiese l'impiego contemporaneo di due potenti mezzi contestualmente il reperto venne interrato per circa 150 metri quindi quello che vediamo su e sta ancora interrato sottoterra di altro di un altro metà e mezzo quindi guardate quanto è grande in modo da garantire il corretto posizionamento e la sicurezza così da allora è denominato il dinosauro guardiano della cava molti altri agglomerati calcarei vennero rinvenuti ed alcuni sono stati posti anche al centro della rotonda che più avanti andremo a vedere dove si trovano questi due e cioè tra di essi una forma di cuore con delle conchiglie incastonate chiamata cuore di madre perla della cava una forma di cagnolino ed un altro di una piccola fuoco quindi effetti sono tre di andare a vedere nell'imponente sbancamento della cava vennero alla luce vaste stratificazioni di fossili conchiglie di notevole interesse paleontologico così da costituire un geosito sotto la tutela dell'ente parti tutto questo è dimostrare che nelle ere passate di questo territorio sentite sentite c'era il mare e per questo si sono che si sono chiamate le colline del mare luigi roseo 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 credo che sia sindaco di cortiglione 2005 nell'anno 2005 2009 secondo alcune mie ricerche approfondiremo più avanti con delle foto eccetera ad assi c'era il mare se non ricordo male sono stati trovati alcuni resti di una di una balena quindi molti per scherzare dicevano che sarebbe bello torino con tutte le sue bellezze anche il mare che insomma non siamo tanto lontani e ad assi c'era il mare poi con quegli anni con i milioni di anni il mare è andato sempre più giù nel senso che si è abbassato di livello quindi adesso abbiamo la terra emersa no e questo è il dinosauro guardate che bello io ho notato questa parte qui sembrerebbe vedete un cuore un cuore vedete la conchiglia un cuore del dinosauro sembrerebbe questa conchiglia vera è sto toccando proprio una conchiglia quella del mare incastonata nella nella pietra cioè non è una non è uno scherzo non è una cosa fatta artificialmente guardate guardate che bello stupendo vedete questi sono no quelle quelli spuntone se mi vengono bene mi viene il nome dei dinosauro noi abbiamo visto tutti giurassi park eccetera dei film e vedete qui le conchiglie vedate queste conchiglie qui vedete piccolina questa 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 guardate e si incastonata ce n'è ancora una guardate questa qui vedete ma questa qui guardate questo come fa artificialmente a mettere una conchiglia qui è impossibile anche questa qua incastrata nella nel masso quindi è tutto vero è ad asti c'era il mare nella zona qui dell'astigiano c'era il mare vedete lì c'è un'altra conchiglia lì guardate quante ce n'è guardate questa cosa è un sempre un masso e qui un'altra conchiglia guardate incastonata incastrata incastonata ditelo come volete io sto guardando vedete questa che bella questa bellissima mamma mia guardate mezza dentro e mezza fuori madonna come bellissima stupenda qui anche vedete qui dentro ce n'è una guardate questa bellissima vedete qui si sale visto su se andate a vedere su maps il dinosauro c'è l'icona piccolina il dinosauro ci sono molte foto insomma di famiglie no genitori con figli che hanno fatto le foto sopra sopra questo masso vedete è una forma di dinosauro guardatelo bene vedete la parte posteriore non è la parte anteriore manca un po di testa ma non è che possiamo pretendere anzi che è stato trovato insomma questo bellissimo masso che ce n'è ancora una guardate questa insomma sono delle cose bellissime particolari ma sono se per sé potrebbero non sembrare nulla non lanciare nessun messaggio in effetti invece in in questa in questo masso e sono incastonati milioni milioni immagino adesso la storia quella tigolo lo non me la ricordo non l'ho studiato ultimamente però credo che siano passati milioni di anni e adesso facendo poi una breve ricerca tutti andremo a scoprire quanti anni effettivi ci sono ma su due piedi secondo me sono milioni di anni e quando sono scoperti insomma questi questi massi con queste con queste c'erano questi massi con queste conchiglie incastonate adesso vedete sono usciti fuori li mettiamo in bella mostra per farci ricordare la storia del dell'astigiano che aveva il mare i neandertal li chiamiamoli così si facevano il bagno a mare ad asta anziché andare in piscina e vabbè comunque i tempi cambiano sono passati vi ricordo secondo me milioni di anni quindi insomma eh adesso vedete lo vediamo da questa parte lo vediamo quindi insomma se vi trovate a passare su questa strada no strato provinciale 3 fermatevi un attimino con i bambini fate qualche foto sono foto insomma che a cavallo si mettono mettete i bambini a cavalcioni qui sul sul masso a cavalcioni su un pezzo storico di tantissimi e tantissimi anni fa ditelo che sono di tantissimi e di tantissimi anni fa questo masso perché i bambini immagazzinano in fretta quindi magari rimanere alla loro memoria e magari a scuola diranno io ho fatto una foto in quel masso che è il dinosauro di milione eccetera e magari i professori rimarranno un po sbalorditi come fa a sapere questo bambino e in questo canale anche questo no un po di storia del soprattutto la storia di quello che vediamo che solo le foto insomma dobbiamo anche capire che cosa stiamo vedendo bene questa è tutta questa bella questa bella terra verde di là c'è un un torrente che passa comunque bene io spero di avervi regalato delle emozioni storiche in questo caso e come al solito se il video vi è piaciuto like è gradito vi raccomando qualche commento se magari potete aggiungere qualcosa oltre a quello che abbiamo letto no magari sai mi nonno mi raccontava eccetera eccetera storie insomma è di una certa importanza così ci divertiamo un po è bene un abbraccio affettoso al prossimo video non mancate ciao